Tu hai detto il pubblico ministero, se non ricordo male, chiede gli arresti a dicembre, del scorso dicembre 2023, sono trascorsi cinque mesi e il GIP firma le ordinanze di arresto, quindi chiaramente il PM chiede l'arresto perché ritiene che ci siano delle esigenze cautelari che rendono l'arresto necessario e urgente, ma questo avviene a cinque mesi di distanza e a circa 30 giorni dal voto dell'europea. E' chiaro che così come i politici devono tener conto di un criterio di opportunità, io credo che anche i magistrati debbano tener conto di un criterio di opportunità. Cioè a cinque mesi di distanza è inevitabile che vengano mosse delle critiche rispetto a una tempistica quantomeno anomala. Cioè se fossero davvero esistite queste esigenze cautelari, probabilmente io ritengo di sì, se dei PM così hanno ritenuto, dovevano essere arrestati prima le persone appunto indagate. Sono passati diversi mesi di un'inchiesta che dura da diversi anni. Tanti anni che dura da richiesta. Infatti è quello che ha detto il ministro della giustizia Nordio, che dopo una carriera quarantennale come procuratore dice è un po' strano che gli arresti arrivino dopo vari anni di indagini. Allora, poi sentiamo gli altri.